Trovarci insieme un'ora nel Vegas Live dove giocheremo, giocheremo alla roulette, giocheremo al baccarat, giocheremo al blackjack e giocheremo soprattutto con questo splendido giocatore professionista che è il nostro Ennio Canale. Come stai Ennio? Benissimo, ciao Ciccio. Tutto bene? Buonasera a tutti. Tutto bene. Mi vedi in forma? Guarda il colpo, guarda il colpo. Lo sai perché? Perché ho scoperto. Ma non ti ridi? Rido perché... Che cosa? Agniele. Gioca. Gioca e se la tira, ma non è bravo come lei, è stata nelle prime 300 del mondo. La nostra Silvetta, è vero Silvia? Esatto. Non vorrei mandarla a scoprire così. Buonasera Ciccio, buonasera Ennio, buonasera a tutti. Ma sei pronta? Guarda che io se ti per la prossima mi prenoto. Va bene, quando vuoi. Davvero? L'impostazione è buona? Mmm. Pasqua, com'è? Tumba? Di fianco. Di fianco, di fianco. Invece qua dietro, qua. Allora... Allora...